ciao io mi chiamo Sydney e benvenuti sulla mia rubrica russaliana punti russi su di un'italiana vuol dire qualcosa? chi è la vera Sydney? indovinate mi chiamo Toshio no tu non sei Toshio stai sorridendo qualcuno dei commentatori memorabili che commenteremo oggi ha commentato come sono simpatica ha commentato ho dimenticato cosa volevo dire che io non sorrido mai ah si ha commentato che è giusto perché i sovietici non sorridono mai ah è qualcun altro che ha detto che no c'era una commentatrice che siccome by default stavo sorridendo mentre parlavo dell'attentato al croco city hall non perché lo trovi una cosa divertente ma perché questa è la mia faccia standard ho una brutta malattia che mi impone di sorridere in telecamera è una deformazione professionale e questo mi fa il sorrisino è inappropriato ma magnato un'emozione va bene allora qual è il tema di oggi e perché lo facciamo? vogliamo solo acchiappare like e monetizzare sulla vostra crudeltà no la ragione per cui lo facciamo è che abbiamo appena passato un milestone che in italiano sarebbe un traguardo ecco bella parola abbiamo superato duemila iscritti quindi prima cosa grazie grazie a tutti voi visto che adesso Tosce usa il plurale questo significa anche che questa cosa che una volta era un mio blog poi un mio progetto poi un mio non si sa cosa adesso è diventata una cosa collettiva oggi leggiamo dei commenti memorabili devo commentare che cosa sono i commenti memorabili sì fanno altro commento memorabile no? fanno schifo no non tutti fanno schifo diciamo che noi mentre preparavamo questo podcast abbiamo scelto dei commenti io non ho fatto una hit comunque non mi mette il microfono avanti alla faccia che poi si vede solo il microfono e io non mi vedo perché lui evidentemente è d'accordo con quel cretino che ha commentato che io non sono telegenica e quindi mi vuole oscurare parlerò così io non ho fatto una hit però devo dire che ho avuto un particolare gusto a concentrarmi sui commenti stupidi o cattivi mi sarei potuta concentrare anche sui commenti belli secondo quello che si chiama positive reinforcement cioè per attirare commenti buoni fai complimenti a chi ti fa i commenti buoni se vuoi un bambino si comporti bene digli bravo così lui ripete le sue buone azioni però penso che voi che avete commentato con garbo gentilezza e con cognizione di causa argomentando e creando anche cosa che mi è piaciuto molto che mi è piaciuta molto nei commenti una specie di comunità di persone che si confrontano penso che voi non abbiate bisogno che io vi faccia i complimenti lo sapete già che siete bravi mentre con i cattivi ci possiamo divertire un po' purtroppo non posso lasciare i commenti su certe cose lo capisco ma vi ammiro per questo che siete e per il modo di esprimere i vostri pensieri prima ti avevo seguito sul facebook poi mi sono iscritta qui però ti devo dire che non vale la pena discutere in internet con certe persone che pensano che solo la loro opinione sarà vera ogni tanto leggo il gruppo italiani in Russia anche noi e devo dire che ci sono molte persone strane fra virgolette se non dire di più io sono sono perfettamente d'accordo una volta avevo questa brutta abitudine di impelagarmi in discussioni politiche filosofiche esistenziali con la gente su facebook non lo faccio più o lo faccio molto raramente perché è inutile facebook ma da come vedo anche molto di youtube ormai è un bestiario e quindi insomma se hai un minimo di dignità certe volte ti conviene risparmiare il tuo prezioso tempo le tue preziose energie per cose più importanti di queste discussioni vorrei dire da bar ma nemmeno da bar perché sono da facebook questo commento è stato fatto sotto un video uno degli ultimi in cui io faccio vedere il mio appartamento a mosca mio tra l'altro non di proprietà però non è che io nel titolo mi metto a scrivere ecco l'appartamento che io affitto a mosca per la tale cifra inclusi i servizi e dall'anno bla 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 no? come tutti quanti perché non ci dici questo? perché non ci dici quell'altro? mo vi faccio una dichiarazione dei redditi siete contenti? eh va bene questa persona una delle perché molti commenti simili sulla su questa linea perché non fai dei video nelle periferie delle città americane USA per fare vedere come vivono milioni di poveri per strada senza un tetto la ragione è molto semplice non ci viviamo e poi c'era una risposta su questo commento e una persona ha detto se tu sapessi utilizzare quella piccola funzione di ricerca su youtube avresti trovato migliaia di video fatte dalla gente americana su come si vive negli stati uniti noi non ci viviamo e magari se qualche giorno ci trasferiamo vi faremo anche vedere la stessa cosa è stata commentata riguardo ai quartieri poveri in Italia e barboni in Italia facci vedere come cioè ragazzi io in questo momento non vivo in Italia vivessi in Italia in un quartiere povero sarei felice di mostrarvelo ma purtroppo per fortuna non è così io posso mostrare soltanto le cose che vivo in prima persona e cerco di limitarmi a quello che al giorno d'oggi secondo me è estremamente difficile c'era un folle una folle Carmela G o G Carmela qualcosa ciao G Carmela che insinuava a più riprese cioè non ti è stancato questo è commentato per una giornata intera ma un lavoro ce l'hai? io sì magari tu non sei disoccupata e perciò perdi tempo a commentare i miei video di YouTube che non sono nemmeno venuti bene ma lei continuava a insinuare che l'Occidente l'Occidente SRL mi paga magari mi paga no la cosa allora innanzitutto la cosa più assurda è che sotto altri questo qui diceva che l'Occidente mi paga per parlare male nella Russia sotto altri video su questo stesso canale qualche altra G Carmela che non si chiama G Carmela mi accusa di essere pagata dal regime russo per pubblicizzare la Russia e farla sembrare bella quindi secondo me voi commentatori dovete fare una riunione di condominio e dovete decidere secondo voi chi mi paga l'Occidente SRL o o o eurasia S.P.A quindi io ho risposto con la mia ma se l'Occidente mi pagava me ne andavo a vivere in Russia in una Khrushchevka ma dammi l'email di questo accidente gli mando il cv e allora è arrivato quello che si annida tra tutte le file dei commentatori il grammar nazi si dice e quindi scrive mi avesse pagato se non sai nemmeno la nostra lingua non conosci neppure il congiuntivo lascia perdere le finiture delle finestre per ora purtroppo hai altre priorità fai le elementari soprattutto cresci e poi se è proprio inevitabile pontifica mamma mia te ne emoziona ok io non perché avere la laurea non perché avere una laurea cambi qualcosa però giusto per fare il punto che ho studiato come funzionano le lingue e dire se mi pagava l'Occidente facevo così così è una variante della norma in italiano non sapere usare il congiuntivo è tutta un'altra cosa è quello che dicevamo all'inizio caspita è vero lo diceva anche la suocera ad uno che non ride mai diceva ma pare uno sovietico che stai sempre ammussato è vero non hai capito no lui sta sempre ammussato ma veramente sta sempre ammussato questo commento è sotto il video su come è ottenuto la cittadinanza è fatto buono e stai meglio in l'occhio in russica in italia che sta in un paese fornuto oramai oramai tengo quasi 50 anni se non facessi pure io traduco hai fatto bene stai meglio lì in russia che in italia questo ormai è un paese finito ormai ho quasi 50 anni altrimenti lo farei anch'io lui usa bene il congiuntivo in napoletano bravo bravo lo devo mandare da quell'altro là che ha commentato che io non lo sapevo fare sì così faranno una riunione del condominio comunque a 50 anni non è troppo tardi per cambiare vita e nemmeno a 70 va bene questo è diretto a me il tuo marito è un liberasta e tu hai chiesto cos'è un liberasta liberasta è una combinazione delle parole liberale e pederasta ma pederasta è una parola italiana esiste questa parola ragazzi siccome io non ho ancora fatto delle mentari scusatemi ma in italiano esiste la parola pederasta no va bene insomma combinazione di liberale e omosessuale per rispondere a te divano tv no no non sono né liberale né omosessuale e tu invece lui è divano sì e tu invece chi sei è divano facci sapere chi sei è divano come mi sto divertendo ragazzi magari potessi vivere lì la propaganda occidentale non attacca più come una volta eh 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 io non è che mi vanto di vivere in Russia io poi non so che cosa passa come diceva Umberto Eco perché non ho ancora finito le elementari come diceva Umberto Eco che però comunque è una cosa che va presa con le pinze perché poi la gente ha cominciato ad approfittarsene di questa cosa che ha detto Umberto Eco ma io non necessariamente sono responsabile di quello che tu capisci dopo che ho detto qualcosa e quindi magari a voi passa che io mi vanto come mi diceva un'altra tipa in privato questi giorni una pazza assatanata mi scriveva che io ostento la mia vita in Russia ma perché cioè scusatemi ma se direvo a forcella non ostentavo magari ostentavo e dice eh sì ci vuoi fare credere che Napoli è meglio tutte cose abito in Russia e cioè io racconto ma come mi dice scusate agli italiani che non piace come sono fatte gli appartamenti in Russia possono sempre tornarsene al loro bello e democratico paese ma la domanda che mi sale spontanea è ma cosa ci fa lei a Mosca perché credo che neppure per scelta d'amore si possa andare a vivere in un paese dove si vive nel temore della dittatura un paese governato dal macellaio Putin in un paese in guerra dove c'è anche carenza di cibo a Mosca non c'è si trasferisca a New York visto che lei parla correttamente anche la lingua inglese ha mai più di vederla innanzitutto che non ci siamo mai visti io e te seconda cosa ti potrei rispondere proprio come mi rispondono gli altri sotto nei commenti e dirti ma perché a New York non a Los Angeles ah perché a New York cioè perché ti piace New York a te perché c'è più italiani a New York perché a New York non a Filadessia che cosa tieni contro Filadessia di la verità è New York che ti paga per farti scrivere questi commenti ok perché rive in Russia è una scelta d'amore io non sono venuta a Mosca per lui con tutto il bene che gli voglio adesso ci verrei per lui ma quando io sono venuta a Mosca che ero ancora giovane lui non era ancora o meglio lui era nei miei piani ma non lui com'è adesso cioè io non sapevo che lui ci fosse sono arrivata al punto di perdere la speranza va bene la prossima domanda è diretta a te ma chi sei? ciao io mi chiamo Sidney e benvenuto sul mio canale e sulla mia rubrica russaliana appunti russi di un'italiana va bene almeno spero che abbiamo risposto alla domanda ma racconta la verità molti punti interrogativi no io cioè quella mattina che questo è sempre sotto il video delle case quella mattina che ho girato il video mi sono svegliata presto ho aspettato che arrivava il camion con la scenografia ma no why you quattro ore a montarlo quell'appartamento come si dice da noi in Russia quattro ore per preparare e cinque minuti per mangiare cioè quattro minuti per prepararlo e cinque minuti per mangiartelo una faticata quel video e poi ho pure dovuto fare finta di avere i muri di cartone nel bagno pur di denigrare la Russia e di dire che questo paese fa schifo è stata proprio una faticata no non dico la verità è tutta una messa in scena pure questa faccia non è la mia io quando mi vado a coricare me la tolgo l'appoggio sul comodino ho guardato alcuni tuoi video sulla vita in Russia punto 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 vorrei sapere come se la passa la comunità lgbtq ah sì la comunità alfabetica insomma visto che per quello che ne so io il movimento è considerato gruppo terroristico hanno anche un movimento gay terrorista che si rischia la galera per il semplice fatto di girare con una bandiera arcobaleno e che è vietato esternare la propria omosessualità per dirla in due parole due uomini russi che si baciano in posto pubblico cosa rischiano chiedilo a divano tv come rispondi prima tu sì mi sa che come siamo cattivi e io ce l'ho qualcosa da rispondere però mi interessa sapere tu cosa hai da dire al riguardo perché tu sei più russo di me purtroppo in Europa c'è ancora la gente che legge o che guarda RT Russia Today e io so che la comunità LGBT e poi anche quella delle altre lettere fiorisce in quell'edificio ci sono anche dei corrispondenti gli autori scrittori quelli che lavorano sul sito web copywriter sì la comunità LGBT fiorisce in quell'edificio quindi per rispondere la domanda su cosa succederebbe se due uomini russi si baciassero a un posto pubblico non saprei dire non saprei dire se sono poliziotti forse niente io direi allora innanzitutto secondo me uno dovrebbe dovrebbe domandare a chi è omosessuale o a chi perché poi lgbtq più le altre lettere non è semplicemente omosessuale no ma è una comunità che mi pare di capire vuole racchiudere nel suo nome tutti gli orientamenti sessuali diversi da quello lo dico tra virgolette tradizionale io potrei fare dieci video a parte su questa questione perché a mio parere anche quello che viene chiamato orientamento tradizionale non è uno ma se tu andassi a intervistare diverse coppie tradizionali come noi è molto probabile che queste coppie vivono all'interno della loro coppia e non in mezzo alla strada la propria sessualità nelle maniere più diverse quindi io spesso ho proprio un po' di difficoltà a capire questa formulazione che secondo me anche se si fa passare per inclusiva tende con il passare degli anni a diventare esclusiva ma non è questo il tema di questo podcast più che altro posso dire che non mi risulta che LGBT più le altre lettere sia un movimento terroristico in Russia non si è considerato così mi considera mi considera mi risulta sì che ci sia una legge contro la propaganda LGBTQ più eccetera eccetera bisognerebbe andarla a leggere approfondire soprattutto bisognerebbe capire che cosa si intende per propaganda quello che so di sicuro è che una delle cose che si intende con propaganda è per esempio la diffusione di teorie di genere che si ritiene in Russia ma secondo me non bisogna essere russo non bisogna essere russi per pensarla così non hanno un fondamento scientifico all'interno delle scuole questo è una delle cose che vengono ritenute propaganda per quanto riguarda come vivono gli omosessuali in Russia io ho diversi conoscenti omosessuali una di queste persone è una mia carissima amica a me risulta che queste persone trovino senza troppi problemi persone come loro da frequentare con cui condividere la propria vita o che abbiano più o meno gli stessi problemi che abbiamo noi etero io vedo queste persone vivere tranquillamente mi rendo conto che ci siano delle difficoltà oggettive ma mi sembra che non che anche quelle difficoltà oggettive ad essere accettati come omosessuali io non le vedo maggiori a quelle che ci sarebbero in Italia e non mi sembrano comunque delle difficoltà più gravi di altre che riguardano il lavoro i soldi e che non dipendano dall'orientamento sessuale e per quanto riguarda che cosa succederebbe a due uomini che si baciano secondo me non è che ti arrestano secondo me se soprattutto non sei in una zona centrale cosmopolita così così c'è il rischio che qualche altro uomo super virile ti venga a fare un paliatone però ci tengo anche a precisare che io non faccio il tifo per l'uomo super virile che verrebbe a farti il paliatone l'uomo super virile che ha bisogno di fare il paliatone ai due gay che si baciano è un uomo che tiene nascosto un piccolo gay dentro di sé e non lo vuole ammettere si levano le scarpe prima di entrare in casa perché hanno le scarpe sporche dopo aver pisciato dentro l'ascensore ti amiamo sì esatto assolutamente non facevi prima ad arruolarti nell'esercito dovrebbero prendere anche le donne questo è un commento sul fatto che io ho ottenuto la cittadinanza russa innanzitutto quando io ho cominciato questo viaggio verso la cittadinanza russa non era ancora cominciata la guerra e io non immaginavo nemmeno che stesse per cominciare nell'arco di pochi anni se fossi stata uomo come molti uomini che conosco che stavano facendo lo stesso viaggio che ho fatto io no non avrei più ottenuto la cittadinanza russa perché non avrei voluto avere l'obbligo di andare a fare il militare non in Russia in generale se fossi stata in un altro paese dove anche c'è la leva obbligatoria non avrei ottenuto la cittadinanza se fossi stato un uomo o insomma se avessi saputo che è indispensabile per me andare a fare la guerra no non avrei perché io sogno un mondo migliore in cui non ci sia più bisogno degli eserciti visto che siamo così progrediti però siamo sempre progrediti alla cazzo di cane sulle cose più stupide siamo progrediti e sulle cose più importanti invece torniamo indietro chi urina negli ascensori sempre sempre su questo tema che è piaciuta molto questa cosa come si dice questa questa cosa di di colore delle urinare chi urina negli ascensori in Russia sono i migrati provenienti dalle repubbliche islamiche 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 no islamiche con i russi i poveri russi si blindano in casa perché non fidandosi delle banche mettono i loro risparmi nascosti in casa come sono vincolate queste due cose se hai postato un video vivere in una dittatura e non ne hai pagato le conseguenze vuol dire che non vivi in una dittatura sì perché nel KGB che adesso si chiama FSB non si parla italiano questa è l'unica ragione comunque non ne sono d'accordo affatto perché ho visto dei cittadini della grande potente nazione russa che pisciano non solo negli ascensori ovunque io ho avuto delle delle conversazioni con degli immigrati delle repubbliche centro-asiatiche se ad esempio fanno rumore in strada fuori alle 10 11 di sera io parecchie volte sono uscito ho detto ragazzi la gente sta per dormire state facendo rumore per favore smettetela si alzano e se ne vanno subito e non dicono niente se se c'è una se c'è un gruppo dei russi dicono e posso dire una cosa questo commento ci fa molto capire che sei un russo fiero della tua razza ma è molto razzista dire che soltanto gli islamici cioè soltanto i musulmani pisciano negli ascensori io ultimamente con la mia bambina passeggio per i vari parchi giochi e spesso trovo mamme musulmane con i loro bambini trovo che spesso siano persone molto più educate e anche istruite di noi bianchi adesso viviamo nella zona nord-est di Mosca si nel nostro quartiere c'è più gente asiatica quella bianca insomma se si è poveri è meglio non mettere al mondo figli se tu non desideri fare dei figli perché sei povero ed è questa la tua unica ragione ma anche se tu sei ricco e non desideri fare figli io credo che sia veramente giusto che tu non li faccia per il resto consigliare a chi non ha molte risorse di non fare figli è una proposta agghiacciante perché ci sono persone che sono tagliate per fare i figli e per educarli fare credere loro che la povertà sia un impedimento all'accrescimento della famiglia alla propria crescita personale e soprattutto alla ricchezza che si può avere nella vita e alla ricchezza che ti può portare un figlio è una cosa veramente agghiacciante anche perché chi è povero non è mai necessariamente povero per sempre come anche chi è ricco non è mai necessariamente ricco per sempre avete dello stucco usatelo come faccio io ma Elisa scusa ma stai parlando proprio dello stucco stucco o cerchi di venderci qualcosa facci sapere per favore vive all'interno di una cultura primitiva e violenta ne sono d'accordo il tuo tentativo il tuo tentativo di normalizzarla non è accettabile e va respinto tutti insieme a me basta questo era il mio commento scusate questo commento è tutto in caps quindi per quelli di voi che state usando i auricolari si dice si 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 copritevi le orecchie in occidente europa e stati uniti giappone australia invece delle case ci sono lì homeless per diritto di nascita e con la colpa di esserlo in russia c'è un problema in realtà analogo se mi parli di homeless per nascita e col diritto di esserlo ci sono persone che non riescono in alcun modo ad avere la propisca ne parlo nel video in cui racconto come ha ottenuto la cittadinanza la propisca è la residenza cioè ci sono persone che non possono permettersi di comprare una casa di proprietà non hanno amici o parenti che possono mettergli la residenza a casa loro e per questo queste persone non ricevono mai un timbro sul proprio passaporto dove ci sia scritto dove sono residenti non avere un timbro sul passaporto in Russia causa molti problemi nonostante si abbia diritto a fare uso della medicina statale anche senza propisca e si abbiano un mare di altri diritti ma non avere la propisca significa che puoi avere difficoltà ad avere un conto in banca puoi avere difficoltà a mandare i tuoi figli a scuola non vieni ritenuto una persona affidabile e diventi un cittadino di serie B per tutta una serie di motivi quando io ho ottenuto la cittadinanza non eravamo ancora sposati e quindi io non potevo ancora essere residente presso la sua famiglia sono stata molto fortunata durante tutto questo processo ad avere una persona di buon cuore che non ha avuto paura di me e che mi ha fatto la residenza in una delle sue proprietà perché se così non fosse stato io sarei stata una cittadina russa senza propisca il che avrebbe significato che avrei avuto un bel po' di problemi esiste un'associazione non mi ricordo più come si chiama perché non ho vista tempo fa esiste un'associazione che si occupa di tutelare e cerca di difendere i diritti di queste persone che per il fatto di essere rimaste senza una casa di proprietà sono cittadini di serie B quindi non idealizziamo la Russia non la dobbiamo fare una chiave ma non dobbiamo nemmeno idealizzarla i problemi ci sono dappertutto vestita di giallo non ti hanno ancora arrestata simpatica questo mi piace vai in Danimarca perché no? un giorno volentieri assolutamente sono stato in Svezia e sì il paese mi è piaciuto quindi Danimarca ho ho sentito molte cose buone di questo paese questo devi leggere questo e quello seguente scusami ma l'appartamento sarebbe più vivibile se fosse un po' più tenuto da chi ci vive ma invece di fare i video oli oli perché sono tanti oli di gomito no? elbow grease cioè praticamente ci hanno detto che noi viviamo nel disordine e nella sporcizia innanzitutto voglio dire io non so se devo essere onorata che il nostro canale viene seguito da queste diligenti massaie quelli che fanno la pubblicità dei fagioli campbell seguono la threadwives a commentare sul mio canale no? ogni volta il mio amico viene da lavoro mi fanno la pubblicità del most delicious coffee bulgers che mi fanno fresco come di pezzi il caffè è indrinkabile la pubblicità delle anni 50 è mia passione la nostra casa non è in disordine ok? l'avete vista sì in un momento in cui non era proprio in ordine ma scusatemi tanto se mio marito in cucina sta cucinando è normale che non è tutto al proprio posto perché sta cucinando se mia figlia gattona sul pavimento è normale che non è tutto al proprio posto perché mia figlia butta i giocattoli qua e là se ho lavato i vestiti e vi sto dicendo che il mio appartamento è piccolo e non ho altro posto dove stenderli è normale che lo stendino della biancheria sia in soggiorno e è un mare di altre cose però se volevate che vi facessi vedere la casina quella lì l'ambiente dell'IKEA tipo sai quando vai dall'IKEA e entri nelle casine siete venuti sul canale sbagliato non sono brava casa è bene che i russi capiscono quanto siano disprezzati nel mondo scrive Capitan Findus il sorriso che c'è in te e ormai sì la verità è che la gente normale anche la gente che non che non sopporta la guerra soffre sempre per per la colpa del governo immaginatevi tedeschi normali nell'anno 45 ma sei la ragazza di cioccolata mia figlia ti adora sì sono proprio cioccolata però ogni tanto mangio anche i bambini si sente in sottofondo la musica propagandistica spero che tu stia ben attento posso raccontare la storia va bene due anni fa ho fatto un video sul mio canale che spero di riavviare presto su un campo per campo per bambini abbandonato che abbiamo visto e ci ho pensato perché a me piace fare la musica di musica di sottofondo che che piace che piacerebbe a me quindi di solito la faccio io e ho pensato di prendere una canzone sovietica canzone di scuola canzone dei pionieri dei pionieri e poi farlo in modo che suoni un po' come come un incubo quindi lenta e con dei difetti fatti apposta quindi secondo me per il video che ho fatto io ci stava bene e poi comunque ci fa ridere tanto che ogni tanto la usiamo quindi si non è dico io la persona che guardava il video non ha capito che è una musica di sottofondo ma poi cioè io mi sbatto tanto a raccontarvi di come a mosca si possa fare condurre una vita mediocremente normale e voi mi dite spero che tu stia bene come se io quando uscissi per strada ci fosse uno scenario da George Orwell poi vorrei dire io anche che secondo me dovrebbe far riflettere proprio il fatto che per vivere in scenari possibilmente orwelliani non bisogna trovarsi in atmosfere orwelliane è quello il fatto che vi dovrebbe far riflettere anche tutti quelli che dicono ma è video vivere in una dittatura tu non ci parli della dittatura ma vi devono dire tutto vi devono dire tutto fatevi due domande su come funziona veramente la democrazia se dittatura e democrazia si assomigliano così tanto io me la farei una domanda perché o significa che la dittatura è venduta e confezionata molto molto bene o significa che la democrazia ha qualche pecca molto seria per cui assomiglia tanto la dittatura dicendo questo io non sto dicendo che la dittatura è meglio della democrazia però voglio switch it on hai parenti in Turchia ma come va bene comunque no ma sei italiana o russa sono russaliana no ragazzi sono italiana sono italiana però io comunque dopo tanti anni fuori che si dice così in italiano fuori no c'è chi è fuori e chi è dentro dopo tanti anni fuori io ho capito che quanto sia relativo il fatto di essere italiano o russo tutte queste etichette perciò mi fanno incazzare quei commenti che dicono ah i russi devono capire ma i russi quali i russi chi perché non è che i russi tu li prendi no in un sacchettino come i chicchi di riso pure i chicchi di riso sono tutti diversi tra loro voglio dire ogni persona è diversa è normale che io sono italiana ma se ho vissuto tanto tempo all'estero parlo diverse lingue mi sono confrontata con mondi diversi dal mio mondo di origine che comunque non rispecchia l'Italia in toto perché io vengo da un piccolo paese del sud Italia quindi l'Italia che io ho conosciuto è solo una parte dell'Italia mi sembra chiaro che dopo tutto questo io non possa essere solo italiana che la parola italiana da sola non possa definire chi sono io Sidney per me sarebbe interessante scoprire le vestigie del tempo sovietico come quel campo dei pionieri iscriviti al mio canale che abbiamo fatto questo video ma io ho risposto a sto tipo ecco sì sì va bene quindi iscriviti al mio canale per favore postiamo non so dove postiamo ma postiamo qua in video di Toshio ci vuole l'interprete per capirti ok spero che ti finisca a fare la homeless in America così rimpiangerai la Russia comunque potrei fare un video delle tende qui a Roma in zona Castro Pretorio domani domani scendiamo andiamo un momento a Roma a fare il video a Castro Pretorio domandando qua da come da Piazza Rossa a Castro Pretorio a Pretorio sono dieci minuti a piedi arriviamo subito sei pallosa e antipatica hai una voce di merda e fai delle riprese di merda dillo a quelle persone che da 5 anni mi danno lavoro per mostrare il mio volto sullo schermo sempre un terrone deve essere che racconta porco dio ma vaffanculo cambiate speaker immagino che tu sia un milanese posso fare un gesto con il dito medio sono sono terrone eh non ti piace cambia canale sì quando vedi il nostro video nel tuo timeline di youtube ci sono questi tre puntini alla destra premi e poi premi non mi interessa così pulisce la tua timeline poi dopo fatela solo con quelli là non so del tuo raggio di un chilometro intorno a casa tua così sei sicuro di non avere a che fare con negri ebrei terroni e tutte queste persone brutte qua cara non sei per niente fotogenica e nemmeno simpatica tutto quello che dici per sputtanare la Russia puoi dirlo parola per parola dell'Italia della Francia della Spagna dell'Ingliterra dell'Irlanda dell'America del e del nord della Cina dell e del nord del Vietnam stavo balbettando vado avanti? no per favore no in realtà cioè io non lo so sono proprio di cioè è quello che dico io no? che i problemi ci sono dappertutto lo dico spesso che i problemi e le cose belle ci sono dappertutto quindi mi sorprende che qualcuno mi ne dirà le stesse cose le puoi dire del nord della Cina ma non sto io nel nord della Cina ma tu poi non sono simpatica disiscriverti non sono telegenica non sace non mi guarda vecchia se ti fa vecchia cioè ho capito che io mi sono spaventata quando nei commenti ho visto che la gente mi chiama signora e ci pensate signora quando è successa sta cosa ma vecchiamo addirittura datemi il tempo va bene credo che questo sarà l'ultimo di quella serie questa rincolionita proviene dalla terra dove prospera l'immondizia e vuole dare giudizi povera cerebrolesa di sicura è una rincolionita rincolionita due volte devi lavorare sul tuo vocabolario che si sarà fatta i sieri magici vaffanculo ah il siero magico sarebbe ah io l'ho capito solo ora il siero magico è il vaccino contro il covid ah so you're an anti-vaxxer so yeah it's I get where where it stands from and maybe the earth is flat no vabbè voglio dire io io una cosa penso no hanno fatto il bonus psicologo in Italia usatelo perché quando io vedo la gente che insulta così mi rendo conto che se questo fosse avvenuto dieci anni fa e questo spiega perché dieci anni fa io ero così facevo la blogger ma ero così anche timorosa nel fare la blogger e quindi non mi spingevo più di tanto e per questo non avevo tanto seguito quanto adesso perché se queste cose fossero le avessi lette sentite dieci anni fa mi avrebbero molto 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 turbata e oggi non mi turbano perché mi rendo conto che ci sono molte persone frustrate alle quali non piace la propria vita che pensano che questo debba essere colpa mia o dell'altra figura pubblica di turno che poi mi fa pure rire dire di me stessa figura pubblica ma pubblica di che fate uso del bonus psicologo io faccio terapia è una cosa che mi aiuta molto e infatti non vado in giro smerdiando la gente a gratis soltanto perché un video non mi interessa quindi questa aggressività provatela provate a farla fruttare in modo di fare qualcosa di bello nella vostra vita se ci riuscite va a cagare come i bolshevici fradama bolshevichi si dice in italiano aspetta devo domandare al maestro dell'elementare perché non ho ancora finito l'elementare va bene allora fradama non hai capito un cavolo fradama si è imparata a dire fradama questi sono i commenti che ho raccolto io oddio quanti tatuaggi e barba presumo che sta parlando della barba tutta strana più il cappellino dentro casa che personaggio caro Leopoldo andiamo andiamo punto a punto va bene quanti tatuaggi cos'altro ti sorprende nel 2024 i computer l'automobile l'elettricità a proposito io so che a te ti piace la calligrafia che scrivi con le penne da stilo magari una volta potresti fare dei stencil per i tatuaggi anche se la tua calligrafia non è proprio fantastica diciamo la verità però vedi che che personaggio non è necessariamente negativo va bene barba tutta strana guarda con il testosterone in combinazione alla sangue zingara ho questa barba poco gestibile quindi se non la taglio se non la sistema ogni tanto divento agrid più il cappellino dentro casa se devo essere filmato mi porto un cappellino invece di mostrare tutta quella schifezza al mondo va bene mi sono spiegato bene ma che simpatico il tuo marito comunque italiano ma io non so chi è che scrive magari siete stranieri comunque piccola parentesi da me che modestamente scusatemi non ho ancora finito l'elementare se mi posso permettere visto che non so nemmeno usare il congiuntivo non si dice il tuo marito si dice tuo marito scusami scusami colpa mia che si parli tuo marito sì 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 però hanno sbagliato hanno scritto il tuo marito io ho letto il tuo marito non si dice è russo ma a sentirlo parlare sembra un italiano colto del sud Italia Simo Salentini di un mondo cittadini sì sì ho vissuto nel Salento ma russo quando pulisce il bagno e capisce i pannolini in ogni caso saggio io partengo alla generazione di ad aveni baffone ora nessun apparatnici dovrebbe essere apparatci attuale porta baffi e barba tuo marito sì quindi mi ha promesso di spiegare cosa vuol dire ad aveni baffone ad aveni baffone significa deve venire baffone proprio con questa intonazione qua deve venire cioè con questa intonazione qua significa che se tu non so ti vuoi lamentare di come vanno le cose no e magari sei un comunista non lo so tu dici deve venire baffone cioè significa un giorno quando arriverà baffone le cose andranno meglio e baffone e baffone e stalin perché baffone come quello là della birra moretti che non stiamo pubblicizzando però a me è sempre sembrato dall'infanzia finora di vedere una somiglianza incredibile tra stalin saddam hussein il tipo sulla birra moretti e mio papà e Nigel Mansell comunque no e poi si diceva da venire baffone non solo per dire che quando viene baffone andrà tutto meglio ma pure per dire come una minaccia cioè stai attendo che si viene baffone andrà tutto peggio ti vede da venire baffone poi dopo voglio vedere come ti lamenti capito comunque è preoccupante come siamo controllati dall'algoritmo io sono un'italiana fidanzata con un russo e questo l'algoritmo lo ha indovinato dai canali che seguo tutti di geopolitica sulla crisi russo-ucraina e mi ha proposto questo sito che sito youtube presumo che volevi dire canale canale sì scusate l'argomento non mi interessa non vi seguirò ma vi auguro il meglio grazie e confermo che il mio russo è straordinario va bene che problema c'è cioè non abbiamo capito perché ci scrivi che non ci seguirai questo solo però ok va bene commenti davvero importanti sulla pizza anche questo è scritto in caps quindi scusatemi pizza in russia pessima senza pomodoro gusti tremendi da non mangiare assolutamente no ma guarda ma dipende da dove la compri c'è anche della pizza buona e anche quella con salsa di pomodoro quindi non sono tutte pessime poi secondo me se tu vivi in russia in qualsiasi altro paese che non è in italia non puoi avere la pretesa di mangiare la pizza tradizionale italiana cioè bisogna anche un po' capire che la pizza in questo senso è diventato un alimento internazionale e quindi ogni paese se lo fa un po' in modo suo voglio dire io pure noi quando diciamo che manciamo l'hamburger o il vrustel stiamo dando un pugno nella pancia a un bavarese o si ai tedeschi ai tedeschi se se ti interessa cerca deep dish pizza che che si fa a Chicago io non credo che siano tutte schifose le pizze a parte la hawaiiana sì ma dico non sono pizze tradizionali ma per mangiare va bene certamente tranne la hawaiiana perché è una combinazione schifosa davvero ma peperoni con salame non è male come sì come come piatto stesso come sulla comestibilità non è male io io su questa unica cosa a me non piace la pizza hawaiiana per me è una blasfemia però su quest'unica cosa io convengo con un mio collega inglese che una volta mi disse ma sta massendo a me proprio così mi disse ma sta massendo a me ma perché sulla pizza ci potete mettere le pere e non ci potete mettere l'ananas secondo me tiene ragione perché le pere no e l'ananas perché le pere sì e l'ananas no no perché mi piace con l'ananas però qual è il senso di dire acidità 12 anni che sta in russia non 2 voglio dire tu vivi in russia dai tempi non sospetti quando sei arrivata tu in russia la russia era una nazione quasi amica comunque sia indipendentemente l'ho letto bene questa parola da questo non sei tenuta a doverti giustificare mi iscrivo finalmente sì qualcuno ma no ci sono io ho detto ci sono quelli che sì sì che qualcosa capiscono perché non possiamo non fare degli scherzi sui commenti cattivi no più che altro perché non so magari la gente si rende conto di che fauna gira sui social network ma la cosa più preoccupante per me è che se gira questa fauna sui social network significa che sono così i tuoi vicini di casa cioè non so le persone che tu incontri nell'ascensore o con cui stai in fila alle poste sono queste persone che nei commenti scrivono cioè non so fanno body shaming alla gente perché poi body shaming non è solo si sicchiate cioè può essere pure body shaming così per altre cose analisi intelligente di una persona che ha dei dubbi non è una propagandista becera è solo una persona che ha fatto scelte legittime che non condivido ma legittime è un'italiana intelligente come molti di noi grazie ma bene io questo commento quando l'ho visto la prima volta mi pareva non lo so un po' condiscendente comunque grazie questo commento secondo me somma tutto quello che abbiamo detto la gente sfoga le proprie frustrazioni non appena il primo pretesto che le sembra utilizzabile è nascondendosi dietro ad una tastiera fregatevene di queste persone che non fanno altro che riflettere quello che sono loro tu e tuo marito siete brave persone ed in gamba continuate a documentare le vostre esperienze un abbraccio Darwin si chiama Darwin mi piace Darwin bel nick perché parlo con l'accento napoletano perché parlo con l'accento napoletano adesso perché faccio vedere a tutti quanto sono terrona oh è disgustoso si parla con il salentino invece e se ti portiamo dici portammo portammo si deve avere dei pulmoni troppo forti sei forte ti faccio complimenti perché avete avuto il coraggio di continuare io invece no sono rientrato in Italia con moglie e figlie e figlia nata a Mosca come come la nostra figlia mi sto rendendo conto che ho commesso un errore ma non escludo vista la situazione di poter ritornare e continuare quello che ho interrotto grazie per queste tue impressioni che per chi ha vissuto lì sono importanti per capire com'è la situazione guarda io io ti capisco perché quando quando sei un padre non pensi più di te stesso pensi della sicurezza della tua famiglia quindi se se a quel punto ti sembrava giusto ti sembrava una scelta razionale ritornare in Italia quindi vuol dire che hai fatto bene quindi a ciascuno il suo in Russia in Russia si vive bene in sicurezza e rispetto delle tradizioni compagno mimma il comitato centrale del partito comunista dell'unione sovietica ti ringrazia per il tuo lavoro eccoti 100 grammi di pane e 25 grammi di burro perché c'è beh poi se io comincio a commentare mi dilungo come dice lui che faccio questi take di 10 minuti dove io comincio a ad affondarmi a come si dice a tuffarmi che cosa si intende per tradizioni scusa un momento che cosa si intende per tradizioni quando diciamo cultura come delimitiamo questo concetto questo sarebbe l'ultimo questa continua critica della Russia e dei suoi valori può essere condivisibile ma a questo punto cosa vi impedisce di tornare in Italia paese della giustizia sociale e delle inclusività dove gli anziani vivono con 300 euro al mese i giovani danno 3 euro l'ora a chi li danno io partirei domantina ah i giovani danno 3 euro l'ora per lavorare burocrazia e soldi questa è la risposta trasferirsi in un altro paese non è facile anche se conosco la gente che in settembre del 2022 sono scappati con 100 rubli in tasca in Georgia senza senza avere delle delle connessioni dei amici ma non hanno avuto vita facile poi non è semplice se tu ti trasferisci così non fai una vita facile e ultimamente io conosco un sacco di gente che si è trasferito non soltanto negli ultimi due anni ma anche prima di solito la gente va a un posto dove può stare almeno qualche mese senza lavoro senza senza cose da fare insomma per stabilirci prima per sistemarsi poi comunque sempre è una questione di soldi per me non è solo una questione di soldi comunque mi sembra che la persona che commenta e lo ripeto forse per la centordicesima volta non abbia capito che l'obiettivo non è criticare potrei criticare allo stesso modo anche l'Italia visto che sono anche italiana ho tante cose da criticare dell'Italia e non lo faccio in questo momento perché in questo momento non vivo in Italia da un bel po' e quindi non ho non ho gli argomenti non ho proprio le basi in questo momento per poter criticare qualcosa o elogiare anche qualcosa cosa vi impedisce di tornare c'è sto ragionamento se non ti piace vattene se non ti piace vattene secondo me è un ragionamento cretino a molti italiani non piacciono tante cose dell'Italia ma non se ne vanno in altri paesi perché non conoscono altre lingue perché non hanno i mezzi o semplicemente perché in Italia stanno bene cioè non è che se io mi lamento significa che al 100% non sto bene e lo ripeto sempre quella centordicesima volta ci sono sempre un mare di motivi per i quali noi ci troviamo nel posto in cui ci troviamo e la politica o la burocrazia o qualsiasi altra cosa è sempre uno dei fattori ma non tutti i fattori il mio augurio con questo video è che le vostre palle non è una parola volgare tutti hanno delle palle in casa palle per giocare a calcio o mio dio uso gli angolismi adesso hai finito gli elementari gli elementari mi auguro di avervi grattugiato i cosiddetti no così almeno se dovete commentare qualcosa di cattivo lo fate avete con umorismo avete delle basi ecco ecco il saluto finale lo fa Toshio perché io sono donna perché io sono donna sono vecchia sono brutta e non so parlare mentre lui invece innanzitutto se lui non sa parlare è giustificato perché è russo e quindi un troglodita e poi perché lui ha questa barba ha questi tatuaggi e poi oggi è senza cappello quindi può parlare all jokes aside sul serio grazie per i duemila più iscritti ci ha sorpreso davvero questa dinamica e ci ha davvero mi ha da paura devo dire la verità sì quindi è è un'esperienza fantastica quindi vi ringraziamo e come abbiamo già detto la maggior parte dei commenti sui nostri video sono positivi quindi vi ringraziamo per tutto il supporto che ci date e speriamo di continuare e speriamo che che vi piacciono i nostri video iscrivetevi a questo canale e accendete le notifiche e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace grazie a dopo a dopo grazie a tutti grazie a tutti